L'immagine istituzionale di Cartoon Club 2020 l'ha realizzata Aaron, un grande artista di spray art, nostro concittadino riminese, che è famoso oramai in tutto il mondo. Assieme a Aaron abbiamo realizzato anche una video installazione su un muro d'acqua, quindi molto affascinante, che Aaron ha dedicato al tema dell'immigrazione. L'installazione si intitola Profondo e sarà visibile tutte le sere dal 15 al 19 luglio, appena il sole cala e quindi può essere vista in tutto il suo carattere particolare ed è allestita alla piazza sull'acqua di fronte al millenario ponte di Tiberio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.